là dietro c'è il Chelsea, anche questa sera un aiutino è stato dato a una squadra inglese tanto per far capire un po' chi è il, chi guida il vapore, insomma, chi è il che comanda perché c'è stato il rigore, già il rigore, insomma, vabbè, poteva starci, anche no, poi dopo è stato battuto, sbagliato, ripetuto va bene, pare che insomma si stia per qualificare il Chelsea e i danni del Borussia Dortmund tra l'altro in una situazione simile, anzi uguale dal punto di vista del punteggio rispetto alla nostra ovvero in vantaggio per 1-0 la squadra che in questo momento sta soccombendo là dietro contro la squadra di Potter che non deve assolutamente uscire dalla Champions League vista la sua situazione in classifica, ovvero un ritardo mostruoso per ritornarci e quindi deve fare più strada possibile visto anche tutti i soldi che ha speso e tutto quanto sappiamo, adesso, diciamoci la verità, sappiamo come stanno le cose ma non per far polemica, è solo perché insomma abbiamo annusato questa storia già in anni passati con le squadre spagnole, adesso lo stiamo vedendo un po' con le squadre inglesi anzi direi che possiamo anche chiuderlo così non ci sono problemi perché questa luce dietro non mi piace un gran tipo allora parliamo della partita nostra di domani ci sono state le parole di Pioli, le parole di Krunic notizia di questa sera, pare che si vada verso un centrocampo con Krunic al fianco di Tonali e Benasseri in panchina questa è almeno l'indicazione che arriva da alcune televisioni da alcune testate giornalistiche che dunque disegnano un Milan praticamente come con l'Atalanta quel tipo di schieramento quindi i tre dietro, i due esterni Messias e Teo a centrocampo Tonali e Krunic e poi Brain Diaz alle spalle o diciamo di fianco a Leao con Giroudi punta questa dovrebbe essere, dovrebbe essere la formazione del Milan il mister ha parlato di una squadra che ha preparato bene la partita ha parlato del fatto che queste si dice così mediaticamente parlando sono partite che si preparano da sole in realtà non è vero certo è che noi ci troviamo ad affrontare una squadra contro la quale abbiamo fatto una buona partita nella gara d'andata e che adesso arriva a questo appuntamento un po' come noi nel senso che anche loro sono in lotta in campionato per entrare nei primi quattro posti anche loro arrivano da una sconfitta torna Conte in panchina e questo può essere un fattore soprattutto se sarà ristabilito da un punto di vista fisico e non quello un pochino dimesso della gara d'andata ma ovviamente come ha detto lui ho sopravvalutato il mio fisico cose che capitano quando non si ha l'abitudine a fermarsi è una squadra che dicevo che come noi ha l'obiettivo di andare avanti per fare il suo percorso noi siamo in una situazione particolare una situazione dove il passaggio del turno ci garantirebbe ovviamente un vento nuovo ecco mettiamola così un vento fresco, un vento di primavera perché la stagione è stata quella che è stata fino a questo momento abbiamo buttato via tutte le occasioni per vincere qualcosa arrivare ai quarti finali di Champions League vorrebbe dire rimanere in corsa poi ci sono tanti fattori come ho già detto se dovessimo riuscire a qualificarci andremo poi al sorteggio e li vediamo che cosa succede magari becchiamo il Benfica che ha appena eliminato il Bruges oppure non lo so insomma vediamo ecco magari un derby con una squadra italiana qualche tifoso ha già scritto che piuttosto che andare a affrontare un quarto di finale con Napoli e Inter preferisce uscire domani sera o stasera a seconda di quando guardate il video io sinceramente sono assolutamente contrario lo sapete a questo tipo di pensiero io credo che il Milan chiamandosi Milan sia obbligato a dare il massimo in tutte le competizioni alle quali partecipa credo che questa debba essere come dire il fondamento ed è per questo anche che mi sono permesso di scrivere oggi sul mio sito un pensiero su come poi la stampa ci tratta e come questa sia una conseguenza delle nostre parole nel senso che quando il presidente ma in parte anche l'amministratore delegato si rivolgono ai tifosi del Milan annunciando che in un certo senso il piazzamento è più importante della vittoria per quel che riguarda il campionato perché partecipare alla Champions vale più di uno scudetto e si perde un po' la sintonia tra quello che è il pensiero dei tifosi e quelle che sono le parole della dirigenza oltre a questo poi ci sono quelle parole di Maldini che ancora sono rimaste un pochino sospese e che hanno fatto gridare più di qualcuno allo scandalo quelle dopo la gara con la Lazio ricorderete il famoso siamo nei parametri e di conseguenza la stampa si adegua si adegua a scrivere che il passaggio del turno per il Milan sarebbe un'iniezione di denaro utile a finanziare il mercato della prossima estate e che cosa devono dire? cioè alla fine della fiera siamo noi stessi che ci diciamo che ci facciamo del male non proponendoci in una forma un pochino più competitiva nei confronti delle competizioni alle quali partecipiamo faccio un esempio Antonio Conte in conferenza stampa oggi ha detto io parto ogni stagione il Tottenham parte ogni stagione per vincere qualcosa poi se non ci riesco mi arrabbio lo spirito è questo quando arrivo a Girù parlò di scudetto anche Tonali mi pare che parlò di scudetto e poi andammo a vincerlo ma insomma ci vuole anche un pochino senza strafare ovviamente è chiaro che Pioli non può arrivare a luglio e dire a quest'anno arriveremo sicuramente a Istanbul e vinceremo il campionato però ecco tra proclami inverosimili e un po' più d'occhio di riguardo nei confronti della vittoria ecco si può trovare una mediazione quindi credo che sia giusto spezzare fra virgolette una lancia nei confronti dei giornalisti che si adeguano a quella che è la nostra comunicazione una comunicazione che quest'oggi ha visto un Pioli mi sembra abbastanza tranquillo tutto sommato con la possibilità anche di fare delle scelte rispetto alla formazione inutile criticare a priori quella che potrà essere la scelta di mettere in panchina benassero vedremo domani intanto alle 20 mercoledì sera ci troveremo in diretta per commentare le formazioni che a quel punto saranno ufficiali potrebbe essere l'idea giusta vista la partita molto buona fatta da Krunic con l'Atalanta potrebbe essere anche come dire necessario visto il ritorno di Benasser da un infortunio speriamo ovviamente che sia una scelta tecnica cioè l'augurio è che quella di domani o di stasera eventualmente possa essere solo ed esclusivamente una scelta tecnica non dettata da condizioni di ricaduta o cose del genere non credo ma se così sarà vedremo può essere che Pioli abbia bisogno di un giocatore che effettivamente nella partita con l'Atalanta si è dimostrato molto bravo a coprire sul terzino a coprire sul terzo centrale ad aiutare anche la fascia destra dove verrà riproposto Junior Messiasi il quale è stato crocifisso dopo la gara di Firenze gara negativa effettivamente per lui ma che nelle due gare precedenti ci aveva come dire aveva aiutato una in maniera decisiva e l'altra contribuendo a chiuderla alle vittorie contro Monza e contro l'Atalanta quindi riconduciamo sempre il tutto a un mini periodo perché è chiaro che la partita di sabato è stata una partita negativa che ha coinvolto praticamente tutti però io credo che il Milan abbia le armi per fare per provare a fare la sua partita quello che mi auguro è che il Milan non vada a Londra a difendere non vada a Londra pensando che 96 minuti di difesa oltranza possano essere sufficienti per agguantare la qualificazione noi dobbiamo andare a meritarci la qualificazione dobbiamo andare a prendere la qualificazione prendere la qualificazione vuol dire giocare a testa alta vuol dire giocare con personalità vuol dire fare esperienza fare tesoro dell'esperienza acquisita in Champions l'anno scorso ma anche quest'anno ad esempio proprio con la trasferta di Londra dove arrivamo in una condizione è vero di emergenza dal punto di vista delle presenze ma che fu una partita assolutamente negativa per noi e uscimmo con le ossa rotte al cospetto di una squadra che adesso probabilmente è finita infatti si è qualificata anche grazie all'aiutino è passata è arrivato l'aiutino è passata ai quarti di finale insomma io voglio vedere un Milan che dimostra di aver raggiunto un minimo di maturità un altro tema del quale si è discusso molto dopo la gara di Firenze ma in generale nell'arco di questa stagione è la maturità della squadra dopo lo scudetto vinto questo scudetto che secondo me ha fatto molto più male a una certa parte della tifoseria piuttosto che ai giocatori perché spesso si ripete che è arrivato troppo presto che non l'abbiamo saputo metabolizzare che ha mi dire fatto credere a molti di essere più bravi di quello che sono in realtà eccetera io sinceramente credo che possa esserci anche una parte di difficoltà nella gestione del post da parte ad esempio della nostra guida tecnica ma non è quello il motivo che ci ha portato fin qui ad una stagione deludente dal mio punto di vista sono altri fattori che abbiamo già analizzato ecco la partita col Tottenham è la partita adatta anche per spazzare via queste ombre sarò troppo fiducioso può essere prima di Firenze io diciamo ho invocato più che segnalato un Decatur finalmente protagonista lo è stato pochino certo non è stato il peggiore del Milan anzi mi auguro ecco di vedere un Milan a testa alta un Milan a testa alta questa sera Borussia Dortmund ha iniziato la partita a testa alta poi è stato effettivamente sopraffatto da un Chelsea che al di là dell'aiuto almeno fino a un quarto d'ora dalla fine fin tanto che l'ho vista io ha meritato la qualificazione però insomma almeno andare a fare una partita consapevoli che l'1-0 probabilmente non basta cioè il fatto di puntare allo 0-0 è sbagliato di base e quindi giocare una partita di personalità una partita a testa alta una partita senza timore in fin dei conti abbiamo dimostrato all'andata che il Tottenham è tutt'altro che imbattibile lo ha dimostrato anche il suo cammino quest'anno resta una squadra con dei valori importanti soprattutto nella fase offensiva dove ci sono giocatori come Son e come Kane che sono giocatori di livello internazionale questo lo sappiamo ma lo erano anche all'andata quindi la speranza è che il nostro lavoro difensivo possa essere fatto bene così come l'abbiamo fatto a San Siro 15 giorni fa ci sono i presupposti per poter passare il turno io non vedo un 100% per il Tottenham io vedo una partita dove noi partiamo intanto con un gol di vantaggio e quindi sta a loro recuperarlo sta a loro recuperarlo e poi vediamo che tipo di gara ha impostato il mister il mister ha parlato di situazioni preparate per mettere in difficoltà il Tottenham delle cose studiate vediamo se anche insomma un certo tipo di scelte dal punto di vista di uomini sono propedeutiche a un certo tipo di soluzioni per quel che riguarda ovviamente la fase offensiva credo che Pioli si riferisse a quello cioè il fatto di come dire avere delle idee su come far male a loro perché partiremo con l'intenzione di non andare a fare le barricate ma andare a giocare la nostra partita risultando finalmente equilibrati cosa che noi stiamo cercando faticosamente di ritornare ad essere cioè una squadra che è capace sì di difendere ma anche di avere una fase offensiva di livello torna Leao e questo è importante per certi versi torna Brain Dias e anche questo può essere importante per il raccordo tra le due fasi e speriamo che con anche a disposizione gli uomini della panchina con una partita intelligente seria e matura si possa festeggiare insomma perché avremmo anche voglia dopo la partita di finalmente di guardarci sereni e di raccontarci di un Milan che dopo non so neanche dirvi quanti anni torna ai quarti di finale di Champions League eliminando il Tottenham all'interno di una stagione difficile come questa insomma sarebbe veramente un grande traguardo speriamo davvero di poterci raccontare questa storia ecco stasera o barra domani sera anzi stasera visto che questo video va in onda di mercoledì io vi auguro una buona giornata l'appuntamento è questa sera alle 20 in diretta per parlare della gara prima della gara poi ci sentiremo nell'intervallo e poi alla fine con tutti i commenti giovedì la compagnia della live il numero di telefono per i vostri vocali e messaggi è sempre quello il 366 111 2964 per i vostri vocali per i vostri vocali